Riapriamo la seconda parte del nostro notiziario con una notizia che riguarda questo gattino che vedete nella foto, è una femmina, si chiama Luna, è stata persa domenica scorsa alla cavanna di Borgotaro. I proprietari sono davvero disperati e ancora una cucciola, chi avesse notizie utili per ritrovarla può chiamare il 339 3061 982. Il sindaco di Albaretto informa i cittadini che presso la sala consigliare del municipio ha istituito un centro per la raccolta e l'assistenza alla compilazione dei questionari del quindicesimo censimento della popolazione che è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12. Vi ricordiamo che i questionari debbono essere consegnati entro il prossimo 21 di novembre. Per qualsiasi chiarimento potete chiamare lo 0525 999 231 oppure l'ufficio comunale censimento allo 0525 929 450. Anche il comune di Bedonia si è attivato con il centro comunale di raccolta ufficio censimento aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00, il martedì e il giovedì pomeriggio anche dalle 15.00 alle 17.00. Potete rivolgervi all'ufficio per consegnare il questionario già compilato, per chiedere assistenza alla compilazione per chi non ha ancora provveduto in modo autonomo, per chiedere la sostituzione dei questionari smarriti oppure deteriorati e per chiedere dei fogli aggiuntivi. Torniamo per qualche momento sul seminario che si è svolto lo scorso venerdì a Forno Votaro che aveva per titolo Borghi storici dell'Appennino Parmense analisi e proposte di recupero. Un seminario voluto dal consigliere regionale del PD Gabriele Ferrari e però la richiesta e la proposta è stata accolta immediatamente dal primo cittadino di Forno Votaro, Emanuela Grenti, che assolutamente crede fermamente nel loro recupero. Sentiamo. Forno Votaro come inizio di valle? Forno Votaro sicuramente come inizio di valle ma anche come sede di due importanti borghi che purtroppo nel tempo hanno perso e gradualmente hanno subito un degrado e che probabilmente grazie allo studio che l'università e questo laboratorio sta portando avanti potrebbero essere oggetto anche essi di uno studio dedicato. Quindi abbiamo accolto con molto piacere l'invito da parte del consigliere regionale Gabriele Ferrari di ospitare questo convegno. Auspichiamo anche che la legge che adesso prevede finanziamenti per il recupero dei bordi nei comuni fino a 5.000 abitanti nel futuro possa essere stesa anche per i comuni oltre ai 5.000 abitanti come a Fornovo. Una politica bipartisan quindi, un consigliere diciamo più di area PD con un comune che è un'area un pochettino più eterogenea? Direi assolutamente di area indipendente e ribadiamo tale concetto perché ci siamo presentati in questo modo, vogliamo mantenere questa indipendenza, dialogare con tutti i partiti, riteniamo che i partiti siano il fulcro della democrazia ma pensiamo anche che a livello locale si possa dialogare perché i problemi sono problemi trasversali per cui occorre costruire un dialogo per cercare di risolverli nell'interesse comune. Domenica prossima 23 ottobre all'Oasi dei Ghirardi e il WWF Italia con l'Associazione Italiana Musei Scientifici organizzano la biodiversità del nostro pianeta. Siete attesi numerosi per visite guidate all'Oasi con partenza dal centro visite alle 10 e alle 15. Per saperne di più potete contattare l'Ufficio Turistico Comprensoriale Alta Valtaro 0525 824 765. E ora ci spostiamo in Valceno nel capoluogo a Bardi dove i Lions Club Bardi Valceno hanno offerto il loro aiuto a una nuova realtà bisognosa. L'aiuto questa volta è andato a Suor Virginia Isingrini, missionaria saveriana che opera in Messico. Nuovo service del Lion Club Bardi Valceno a favore delle realtà bisognose. A beneficiarne questa volta è stata la missionaria saveriana Suor Virginia Isingrini, nativa di Bardi, che insieme alle sue consorelle sta cercando di realizzare un centro di accoglienza nella città di Guadalajara in Messico. Un centro che vorrebbe essere di aiuto soprattutto ai giovani, agli adolescenti, alle donne in difficoltà, anche per l'animazione missionaria e per l'evangelizzazione del Messico. Quindi è un centro che vorrebbe rispondere a diversi bisogni che noi abbiamo visto che non sono stati coperti da altre persone, da altre parrocchie a cui noi vorremmo fare fronte. La donazione è stata anche occasione per una conferenza che Suor Virginia ha tenuto presso il Teatro Maria Luigia di Bardi sulla realtà messicana in cui lei opera da lungo tempo. Io sono ormai dall'83, sono 28 anni che io sto lavorando in quella realtà, una realtà molto bella, umanamente molto ricca, come dicevo forse economicamente non così florida come l'Europa, ma ricchissima di valori umani come l'accoglienza per esempio, il volere bene alle persone, di essere pazienti e soprattutto quel rapporto umano a cui loro danno moltissima importanza. Così valori che si sono un po' persi qua, che non sono più così diffusi, perché qui prevale un po' la mentalità del profitto, dell'economia, del tenere tante cose. Chi ne ha meno è più felice a volte e fanno anche felici gli altri perché sanno davvero accogliere le persone. Un incontro davvero interessante in cui la personalità di Suor Virginia è emersa in modo evidente confermando la fama di cui gode in numerosi ambienti. Ha scritto alcuni saggi per la San Paolo, addirittura per la San Paolo ho qui uno dei libri anche di Notte il Sole del 2007 ed è una persona molto valida, è una persona molto propositiva che ci ha lasciato, a chi ha avuto la fortuna di essere qui oggi, un segno profondo dentro, una bardigiana nel mondo, una bardigiana che con la sua fede ha portato un segnale, una speranza anche in questa piccola comunità. Per i Lions della Valceno, organizzatori dell'iniziativa, si è trattato di un momento estremamente positivo da annoverare tra i successi del sodalizio. Questo per noi è stato un doppio service, un service a favore di Suor Virginia perché ha dato la possibilità a noi di aiutarla economicamente nella costruzione di questo centro di accoglienza e l'altro service altrettanto importante è stato quello di poter dare loro visibilità, di poter parlare davanti alla popolazione di Bardi e poter portare la loro esperienza, riportare un po' quelli che sono i valori tradizionali molto importanti ai quali noi teniamo molto. Io sono convinto che il Lions, oltre a dare e a trasmettere dei beni, a trasmettere dei servizi, deve anche trasmettere dei valori, dei valori che sono quelli del lionismo, quelli della solidarietà, di cui la società del giorno d'oggi ne ha altrettanto bisogno quanto dei servizi. Proseguono gli incontri al centro sociale ricreativo Timossi di Borgotaro, conversazioni tra noi, si intitolano gli incontri che si tengono nei mesi di ottobre, novembre e gennaio. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 24 ottobre alle ore 16 con il dottore Enrico De Micheli e Luigina Brugnoli che ci parleranno della cucina del cuore, ovvero come alimentarsi per vivere meglio. E ora il meteo. Per domani, giovedì 20 ottobre, cielo inizialmente coperto con precipitazioni diffuse su tutta la regione ma più intense sui rilievi centro orientale dove potranno assumere carattere anche di forte rovescio dal pomeriggio, poi tendenza a schiarite. Le temperature minime saranno domani in ulteriore aumento con valori tra 10-15 gradi. Le massime invece in diminuzione netta con valori tra 13-15 gradi, infine i venti, saranno moderati. È tutto per questa sera, voglio ricordarvi alle ore 20.45 circa il programma TV 1000 Voci al termine del quale avremo la replica del nostro TG. Grazie per averci seguito, buona serata, a domani. Grazie. 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 Grazie.